Purtroppo con questo video si chiudono i video riguardanti al Padova Guitar Show 2021 che è stata un'esperienza magnifica, non solo per il fatto che io e Giulio, Roberto, Mattia e Gianluca siamo potuti salire su quel palco meraviglioso che abbiamo condiviso con Braido, con Vanni, insomma veramente con dei grandi artisti italiani. Quindi non è stato solo quello, ma la cosa più importante secondo me al di là di tutti questi bellissimi stand che abbiamo visto beh la cosa più importante siete stati voi, voi siete stati il più bel stand che poteva esserci. Non solo mi avete fermato, abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato, ci siamo fatti le risate che purtroppo per i limiti che YouTube ha non riusciamo a farci. Sì, mi scrivete i commenti, io vi rispondo. Molti di voi vi conosco epistolarmente, quindi per quello che scrivete, ma non ho tanto l'occasione di potervi conoscere fisicamente. Bene, il Guitar Show di Padova di bello ha avuto questo, che veramente siete stati in tanti. Mentre sto parlando stanno scorrendo le immagini che io vi ho chiesto di fare con me. Alcuni di voi mi hanno chiesto una fotografia insieme, così, ma sono stato principalmente io a dire dai facciamo una foto perché i protagonisti di questo canale, lo ripeterò all'infinito, siete voi. Io ho creato, ho voluto creare, io e Giulio abbiamo voluto creare una vera e propria community dietro questo canale e penso di esserci riuscito. Non siamo, e dico siamo veramente, non dico sono, non siamo un canale che cresce a dismisura, che fa dei numeri incredibili come alcuni miei colleghi, ma non importa perché siamo estremamente uniti, estremamente educati, non c'è mai una discussione fuori posto sul mio canale, e quando, per esempio, altre persone parlano di haters, parlano del mondo di internet marcio, di gente che parla a sproposito, a me non è mai capitata questa cosa. Io ho sempre avuto solo supporto, amore, incondizionato e appoggio da voi. Qualche critica, ma è giustissimo perché a volte qualche errore l'abbiamo fatto, continueremo a fare errori, ma piano piano, anche purtroppo dovuto al fatto che abbiamo una disponibilità finanziaria bassissima, riusciremo a fare sempre delle migliorie e a portare nuovi nuovi contenuti sul canale. Vi voglio dire una cosa, una notizia, faccio un piccolo spoiler, riprenderò a fare le recensioni, certamente ci sarà ancora la serie Perché Dovreste Ascoltare, infatti fra poco uscirà una nuova puntata di Perché Dovreste Ascoltare, e poi, molto importante, siccome Ayrton gentilmente ci sta creando una cassa custom build da 8 coni veramente figa da poter mettere qua in studio, inizierò tutto un processo di recensioni di tutti i pedali Ayrton e poi con la mia pedaliera live, quindi con Core e tutta la catena dei miei pedali, andremo a fare una serie, a aumentare la serie del suono D usando cose che potete avere anche voi, ovvero i pedali, ok? È vero che userò tutti i pedali Ayrton, ma più o meno i setting saranno quelli e potrete usarle anche la vostra pedaliera. Quindi, novità importanti, sono in arrivo, mi raccomando, continuate a condividere i miei contenuti, iscrivetevi al canale se non lo siete, ma non credo sia questo il video che vi abbia portato al mio canale, e ancora grazie, grazie da parte mia e grazie da parte di Giulio, siamo veramente onorati di avervi conosciuto e di avervi abbracciato. Quindi, alla prossima, al prossimo video anzi, e mi raccomando, sempre suonate. Ciao!